Musica Benvenuti all'edizione serale del telegiornale di Telecittà. Una tragedia è avvenuta oggi lungo la A4 dove un uomo è morto in una circostanza incredibile. La vittima si chiama Massimo Carlo Grigio di San Giorgio in Bosco. Aveva 56 anni ed era alla guida di un tir quando si è accorto che una ruota posteriore aveva preso fuoco. Ha accostato su una piazzola ed è sceso per andare a controllare con un estintore e ha tentato di spegnere le fiamme. Ma in questa fase, tentando di sganciare la motrice, è stato schiacciato sul guardrail dai supporti di metallo. Sul posto i soccorsi purtroppo sono stati inutili. A coordinare l'intervento è stata la polizia stradale. E non ce l'ha fatta il bimbo di 8 anni che era rimasto travolto da una moto durante una gara a Monselice. E' morto il bambino di 8 anni che dallo scorso weekend era ricoverato nel reparto di terapia intensiva della pediatria di Padova. Il bambino stava assistendo ad una gara di motocross a Montagnana in provincia di Padova quando una delle moto in gara è uscita di strada travolgendolo. Una tragedia immensa che aveva fatto capire subito la gravità del piccolo, ma fino all'ultimo i medici hanno tentato l'impossibile. La gara era giunta quasi al termine quando il giovane alla guida della potente moto ha trapassato una collinetta e, sorpassando le barriere di sicurezza, ha investito il bambino. Alla guida c'era un 26enne di Monselice. Il piccolo rimasto ucciso era vicino a dei mezzi che dovevano gareggiare ed erano prossimi alla partenza. Tra i ragazzi in gara c'era anche il fratello della vittima che si trovava accanto al padre, presente come meccanico. Sul posto sono giunti i soccorsi che hanno trasportato papà e figlio all'ospedale. L'uomo ha rimediato una grave ferita alla spalla, mentre per il figlio è stato fatale il colpo troppo violento che ha preso in testa. Ora è stata aperta un'inchiesta che dovrà chiedere il perché di questa tragedia. La pista, intanto, è stata sequestrata. La Digos di Venezia sta indagando per individuare i responsabili del blitz avvenuto questa mattina nei confronti dell'hotel che questa sera ospiterà Mario Monti. Figli sconosciuti, tutti giovani, con maschere e guanti, hanno sparso letame, vermi e immondizia sul pavimento della holla. L'albergo in questione è l'hotel Monaco e Gran Canal. In queste ore gli uomini della Digos hanno raccolto testimonianze e visionato filmati. Un senegalese di 24 anni è stato arrestato per estorsione ai danni di un conoscente. I due si erano conosciuti due anni prima perché frequentavano lo stesso bar. Poi a fine maggio il senegalese era passato da casa del giovane, un 27enne di Piazzola sul Brenta, per chiedergli dei soldi in prestito. Al suo diniego sono iniziate le telefonate, i messaggi e i passaggi notturni sotto casa. Pretendeva 500 euro asserendo che la vittima gliele aveva promessi i quali compenso per aver impedito che un suo amico lo picchiasse. Poi l'immigrato è passato alle minacce. I carabinieri ha accertato che la vittima non aveva alcun debito nei confronti del senegalese e che il credito millantato da questi non era altro che un tentativo di estorsione. Si sono appostati nei pressi della casa di riposo per anziani dove i due si erano dati appuntamento assistendo al passaggio di denaro. Il senegalese è stato così bloccato e arrestato. Il denaro è stato recuperato e subito restituito al giovane. Questa mattina blitz dei carabinieri all'Istituto Tecnico Marconi per effettuare dei controlli sui motorini degli studenti. Purtroppo solo sette sono risultati regolari di servizio. I carabinieri nella mattinata di giovedì hanno trasportato nei pressi dell'Istituto Tecnico Marconi di Padova, assistiti anche dai tecnici della motorizzazione civili, le attrezzature per controllare i motorini degli studenti. Un blitz per verificare le regolarità di moto e scooter che purtroppo spesso sono truccati, cioè con modifiche per farli correre più veloce del consentito. Il risultato è stato molto deludente, infatti solo sette scooter sono risultati esseri in regola. Otto motorini su venti sono risultati modificati e sono stati confiscati dai militari dell'arma, che hanno denunciato i proprietari, sottoposti invece a fermo amministrativo, dopo la revisione obbligatoria, cinque scooter di cilindrata superiore a 50 cc. Ora gli otto ragazzi denunciati non potranno più conseguire il patentino, gli sarà confiscato il motorino e dovranno pagare una multa salata. Purtroppo quello dei motorini truccati e senza fermi al giorno d'oggi è un problema dilagante e l'inesperienza dei ragazzi che guidano dei motorini modificati che non sono progettati per andare a quelle velocità può portare a delle situazioni davvero catastrofiche. Operazione dei carabinieri della compagnia di Caprino Veronese contro lo spaccio di droga. Nove persone arrestate e cinque denunce alla conclusione di un'indagine iniziata già lo scorso ottobre. La droga era destinata a giovani studenti, tanto che alcune dosi venivano vendute addirittura negli autobus. 76 giovani, dei quali 41 minorenni, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria come consumatori di droga. Gli arrestati sono tutti italiani, eccetto uno straniero. Il Presidente della Repubblica, in visita all'Emilia, ha incontrato gli amministratori locali di queste zone disastrate. Sentiamo. Il Presidente Giorgio Napolitano ha visitato l'Emilia nelle zone terremotate. Il Presidente della Repubblica ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni. Presente anche il Governatore del Veneto Luca Zaia e per il Veneto anche i sindaci del Polesine che sono a capo delle zone colpite in quel territorio. Un grande applauso ha accolto Napolitano che è stato ringraziato per l'impegno che ha messo da subito al fianco delle popolazioni. Il Presidente si è detto vicino alla gente che sta vivendo questo dramma e ha spiegato la fondamentale importanza dello spirito comune di solidarietà e impegno indispensabile per dare avanti e ricostruire il territorio disastrato senza scarico di responsabilità. Napolitano ha affermato che i sindaci sono i pilastri dell'edificio istituzionale democratico e hanno un ruolo speciale. Per il Presidente dell'Anci la solidarietà dimostrata dal Capo dello Stato e la fiducia che ripone negli amministratori non può che essere un ulteriore invito a proseguire nell'azione che come Anci vengono portati avanti a sostegno dei comuni colpiti dal tragico evento. Incendio oggi in una palazzina a ospedaletto di Pescantina in provincia di Verona. Quattro famiglie sono state evacuate per fortuna senza feriti. Le fiamme sarebbero divampate nel garage e poi si sarebbero allargate al resto dello stabile. Per ora non si conoscono le cause del rogo che ha danneggiato il tetto e per questo l'abitazione è stata dichiarata inagibile. In arrivo contratti di lavoro nel sistema degli appalti commissionati dalle società delle ferrovie dello Stato per i lavoratori licenziati a dicembre 2011. Una soluzione concretamente realizzabile è stata individuata fra il sottosegretario Guido Improta con i deputati Vincenzo Garofalo e Franco Antonio Genovesi e il direttore centrale risorse umane e organizzazione delle ferrovie dello Stato Domenico Braccialarghe. Si tratta di contratti di lavoro in tempi brevi nel sistema degli appalti commissionati dalle società delle ferrovie dello Stato per i lavoratori licenziati a dicembre 2011. Dalle ditte che svolgevano in appalto per conto di Trenitalia i servizi di accompagnamento ai treni notturni. Dopo la ricollocazione già avvenuta di circa 420 lavoratori ad oggi restano senza lavoro circa 370 lavoratori fra Piemonte, Veneto, Lazio e Sicilia. L'incontro ha consentito di mettere a fuoco tutti gli aspetti della vicenda con l'obiettivo di individuare delle realistiche e concrete soluzioni che siano rispettose sia dei diritti e delle giuste aspettative dei lavoratori. La soluzione ai problemi occupazionali per tutte e quattro le regioni interessate è fondata sul proseguire nell'appalto attuale di una parte dei lavoratori già impegnati nell'appalto precedente. E poi l'attivazione da parte della società del gruppo Ferrovie dello Stato di nuovi appalti della durata di almeno 24 mesi che consentano la piena occupazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato di tutti i restanti lavoratori licenziati. Le società del gruppo individueranno le sedi di lavoro anche in funzione delle regioni di residenza dei lavoratori. Ed è quasi ultimata nella Basilica del Santo a Padova l'installazione del tunnel metallico che proteggerà i fedeli nella navata interessata dal crollo di una lunetta frescata a causa del terremoto. Si tratta di una struttura fatta con ponteggi da cantiere lunga una sessantina di metri, alta 6 e larga 4 a cui si è lavorato anche di notte. Sull'impalcato saranno poi posate delle tavole di legno che proteggeranno i fedeli dall'eventuale distacco di intonaco. Consentirà di accedere in sicurezza alla cappella delle reliquie chiusa al pubblico già da una settimana. L'assessore Franco Manzato sostiene che se il governo aumenterà l'IVA come è stato deciso ci saranno gravi conseguenze per i cittadini. Sentiamo. L'assessore alla tutela del consumatore del Veneto Franco Manzato ha affermato, visto i dati di previsione sui consumi elaborati dal sistema statistico regionale, che il governo dovrebbe riflettere più a lungo prima di rendere effettivo l'aumento di due punti percentuali dell'IVA, l'imposta sul valore aggiunto. La spesa delle famiglie italiane, pronosticata per il 2012, è infatti ridotta del quasi 3% rispetto all'anno scorso e anche in Veneto è stata segnalata una diminuzione del 2,4%. Manzato sostiene che l'aumento dell'IVA su un consumatore già spolpato non alzerà le entrate fiscali, anzi farà diminuire ulteriormente la spesa, consumi, produzione, gettito fiscale e ridurrebbe anche la qualità della vita, che già scarseggia di ottimismo e prospettive. Una manovra del genere porterebbe di sicuro gravi conseguenze. Chi ha sperperato e continua a farlo non sono certo i cittadini e la spesa va ridotta all'origine, come i debiti, lasciando finalmente stare il versante delle entrate, tranne che per la parte doverosamente dedicata all'evasione fiscale. Le otto regioni del Mezzogiorno, Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, d'intesa con il Ministro per la coesione territoriale, hanno proposto di devolvere 50 milioni di euro a favore degli interventi di recupero degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio scorso. Tale decisione, ha sottolineato il Ministro Barca, conferma la vocazione del Sud a contribuire a risolvere le difficoltà e a promuovere lo sviluppo dell'intero paese. La decisione è arrivata ieri sera a margine della conferenza Stato-Regioni. L'incontro era dedicato esclusivamente a cercare un'intesa per sbloccare la programmazione di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per il Sud a pari a quasi 1,4 miliardi di euro. L'importo di 50 milioni di euro verrà utilizzato secondo un'istruttoria congiunta delle regioni interessate con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. La crisi economica pesa anche sui bilanci economiche delle pubbliche amministrazioni. Sentiamo com'è la situazione del Comune di Venezia. Far quadrare i conti in tempo di crisi non è difficile solo per le aziende. Anche le istituzioni locali stanno pagando con serie difficoltà le conseguenze che coinvolgono l'intero paese. Una di queste situazioni di finita emergenziale e drammatica la sta vivendo il Comune di Venezia. A Caffarsetti, in proposito, si è svolta una lunga riunione in questi giorni tra il Sindaco e gli Assessori per discutere le prossime mosse dell'amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio 2012 che si svolgerà con la prossima giunta. In previsione una pesantissima operazione di contenimento della spesa per circa 16 milioni di euro. Il Sindaco Orsoni ha spiegato che per reperire risorse sarà vagliata una manovra che è costretta ad imporre un consistente prelievo fiscale alla cittadinanza. Un prelievo di cui non siamo responsabili, dice il primo cittadino, e che va imputato alla ragioneria dello Stato. Tra i parametri di entrata che saranno fissati nella prossima delibera che dovrà essere poi discussa nelle commissioni competenti per poi andare in consiglio, ci saranno dei possibili prelievi ipotizzati. L'IMU al 4% per mille per prima casa, 10.6% per la seconda, ma ridotta a 7.6% in presenza di canoni concordati, equocanone, comodati, diretti, operaffini e presenza di disabilità al 100%. L'IRPF sarà invece calcolata in base a 5 diversi scaglioni progressivi di reddito, essenzione fino a 15.000 euro di reddito all'anno e successivi scaglioni fino a un massimo di 0.8% per redditi superiori a 75.000 euro lordi l'anno. E ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 8 giugno, sulle zone montane parzialmente nuvoloso per delle nubi frequenti in parziale di radamento durante però le ore centrali della giornata, in pianura sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento pomeridiano sui settori occidentali e sulle zone pedemontane. Per quanto riguarda invece le temperature, le minime saranno senza variazioni di rilievo e le massime invece in ulteriore aumento. Con questo è davvero tutto, grazie per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS